Il 23 e il 24 maggio riparte l'iniziativa Monumenti Aperti anche nel Comune di Pula. Dopo sette anni di assenza, con la collaborazione delle associazioni del territorio, dell'Istituto Alberghiero Azuni e dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce, andremo alla scoperta dei nostri tesori nascosti. Potrete visitare la zona archeologica, la Torre del Coltellazzo, le bellezze della Chiesa di Sant'Effisio e della Chiesa di San Raimondo. Potrete immergervi nella natura incontaminata della laguna di Nora e della foce del rio Pula con le sue peculiarità. Potrete anche visitare le mostre nel Centro Culturale Casa Frau per due giorni davvero dedicati alla cultura, allo svago e all'approfondimento. Tutto ciò avverrà grazie ai piccoli ciceroni che vi accompagneranno in questo straordinario viaggio. Vi invito nel Comune di Pula a visitare il nostro territorio. Grazie.